A breve distanza dall'aggiornamento della BMW Serie 5, ecco che arriva anche il restyling della più votata alle lunghe percorrenze, la Serie 6 Gran Turismo. Questa generazione accoglie il nuovo linguaggio stilistico della casa con un doppio rene di dimensioni maggiorate e la nuova firma LED, già vista sulla 3 Volumi Serie 5. I gruppi ottici offrono inoltre l'opzione Matrix LED e Laser Lights. La linea sportiva denota una forte personalità per conquistare il pubblico amante delle coupé, che però non può rinunciare all'abitabilità di bordo con dettagli come cornici frameless dei finestrini e spoiler posteriori estraibile. I paraurti sono stati a loro volta modificati e nella zona posteriore integrano ora i terminali di scarico trapezoidali su tutti gli allestimenti. L'abitacolo rimane fedele all'impostazione passata. Le principali novità riguardano l'introduzione del Live Cockpit Professional da oltre 12 pollici su tutte le versioni e del sistema operativo 7.0 per l'infotainment. La gamma a propulsori si aggiorna portando al listino esclusivamente mild hybrid a 48 Volt, affiancati da un propulsore benzina e tre offerte diesel. Il cambio automatico ad otto rapporti è di serie su tutte le versioni, mentre la trazione integrale X-Drive è disponibile su tutte le versioni 6 cilindri e di serie sulla più potente 640D. Ad oggi sono stati venduti in tutto il mondo oltre 50.000 esemplari della serie 6 Gran Turismo. Vedremo se la nuova generazione continuerà ad attirare questa fetta di mercato. Grazie a tutti.